youtube dopo che ne mettiamo fuoco ma avete rotto il cazzo ma avete rotto il cazzo non devi farlo ma avete rotto il cazzo non è combato si è ucciso eh si è ucciso mi dammi che mangia non c'è niente oh però fammi dare il video bravo guardo sono stato un ottimo ottoro